Leonardo D'Addazio, come annunciato, questa mattina è partito lo sciopero di un'ora alla Brioni Roma Style di Penne, un segnale forte questo da parte dei lavoratori dell'azienda, ma questo potrebbe portare comunque anche a un'apertura da parte dei sindacati. Il segnale è sicuramente forte perché l'adesione è stata sicuramente superiore, anche se non abbiamo dati ufficiali, è sicuramente superiore al 70% che avevano bocciato l'accordo precedentemente, il 21 dicembre. Però, nello stesso modo, noi vogliamo dire all'azienda che siamo pronti a riaprire le trattative sia sulla flessibilità e soprattutto sull'integrativo, anche perché l'azienda non può permettersi di toccare gli stipendi dei lavoratori già in difficoltà dalla riduzione dell'orario a 32 ore, perché comunque l'integrativo è una grossa fetta economica per i dipendenti. Quindi è una grossa parte di welfare che aiuta i lavoratori. L'azienda deve tornare al tavolo di trattative, noi abbiamo già chiesto l'incontro, stiamo aspettando la risposta da parte dell'azienda. Abbiamo fatto la richiesta nel momento in cui l'azienda ha parlato di un contratto integrativo scaduto nel 2018. Questo contratto invece era scaduto anche già precedentemente, ma noi abbiamo sempre rinnovato, nonostante potevamo chiedere qualcosa in più. Non l'abbiamo fatto perché l'azienda ci chiedeva di rinnovarlo perché era in crisi. Adesso sta facendo il gioco al massacro da questo punto di vista, quindi vogliamo fermare questo gioco per tornare a trovare delle corrette relazioni sindacali. Sicuramente io metterò in campo anche la parte dei consensi che ho ricevuto nell'area vestina, proprio per influenzare queste tematiche. Porterò all'attenzione del nuovo presidente Marsiglio la situazione che c'è nell'area vestina, non solo per l'ospedale, ma anche per le strade, ma anche e soprattutto per l'Apriote.